Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, finalmente eccomi qui, sono tornato, non sono morto è perché ragazzi sto lavorando tantissimo e quindi tempo, tanto 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 tempo a disposizione non ce l'ho per fare live, stare nel TS e bla 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 dicendo va bene, comunque ci sono novità, come state vedendo siamo sulla The Mud Pack 3, un pacchetto veramente difficilotto ho voluto iniziare perché ragazzi, giusto per passare così qualche mezz'ora al giorno su questo pacchetto e caricarlo sul canale di questo pacchetto la cosa che mi piace è perché ci sono veramente le quest ed è veramente strafiga la cosa avevo deciso di farlo in live questo pacchetto con tanta gente, però dall'ultimo live che abbiamo fatto ragazzi con tutta quella gente che si è comportata un po' malino, mi dispiace non fare i nomi me li tengo per me ragazzi senza problemi e niente, ho deciso di fare questo pacchetto così per fatti miei allora, le quest, dobbiamo portare a termine delle quest che sono alcune difficili e alcune no ad esempio questa qua, this is Bermuda, andiamo a vedere come si crafta la Bermuda oddio, no non si chiama Bermuda, come cazzo si chiama? scusa se la spada in legno allora l'abbiamo fatta ah, dobbiamo fare un piccolo in legno, una palla in legno, un asce in legno e una spada in legno ok, quindi non perdiamoci in chiacchiere, ci facciamo una bella palozza e poi una bella ascia perfetto, questa è completata prendiamoci il nostro premio apposto e mi da un dischetto che non so proprio che cazzo farmi vabbè per sicurezza ci facciamo una bella cestra e la utilizziamo allora mettiamoci qua e ci buttiamo tutta sta merda dentro quella là in legno perfetto poi altra quest che adesso ci propone safety torch dobbiamo farci l'ambrosium torch ambrosium torch che si fa mettendo skyrot uno stick e un ambrosium allora l'ambrosium ce l'abbiamo l'ambrosium ce l'abbiamo l'ambrosium ce l'abbiamo ok eccolo qua perfetto e ci mettiamo allora il legno ok e ci mettiamo uno di questi qua perfetto me ne ha fatte due una ma la mettiamo qua raga e l'altra la mettiamo qua apposto lo andiamo a vedere apposto e ci prendiamo un altro premio che palle però ste cd raga vabbè mettiamoli qua dentro altra quest che dobbiamo farci il pig glider saddle praticamente la sella quindi andiamo a vedere la sella come si fa bam 1,2,3,4,5 di pelle e uno string lo string che si può avere tramite flax che sono dei fiori oppure tramite la lana macerando la lana oppure basta metterla dentro la crafting table però se la mettiamo così vabbè oddio qua ci sono della gente che non mi piace per niente questo cos'è non mi dice neanche cos'è white rose white rose white rose oddio mi sa che possiamo farci se non erro oddio qua mi devo mettere il waypoint che non mi ricordo più come si apre no non si mette no come cazzo si apriva il waypoint qui su questa mappa n fa la mappa in grande non mi interessa m non fa niente option drive course no se non erro si faceva così tasto destro portale e poi così se non erro si doveva fare così poi una volta che aprivavamo la mappa si cliccava sopra si apriva la t si ok perfetto mi ricordo allora ci siamo presi queste rose bianche qua c'abbiamo altro abbiamo pure la verminer solo che per il momento non mi sta funzionando non so il perché non prende il tasto quello che dico io perché su questo tasto c'è altro e non so che cosa c'è comunque va bene comunque dobbiamo trovare sti cazzo di fiorellini allora io abbiamo detto che si chiamano se non erro abbiamo detto oddio qua perché è tutto così strano golden hawk livis è un albero di oro what the fuck è un albero di oro aia ma scusa eh perché perché è un albero di oro ma forse è solamente oddio ok 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 abbiamo capito quale è il tasto della verminer a posto abbiamo capito quale è il tasto della verminer perfetto è lo shift allora abbiamo altre due rose la cosa che volevo dirvi raga volevo trovare eh la miseria eh vabbè se no ho già morto sono già morto come un'idiotta qua vediamo una pecora verde oddio perché spara del fuoco celeste i tergras vabbè l'erba va bene la terra anzi no l'erba abbiamo due coin qui c'è una mucca però è strana questa mucca perché era così no mucca pecora però era strana comunque come pecora vabbè allora dobbiamo vedere se andiamo dall'altra parte dell'isolotto però laggiù c'è il bordello come che posso fare allora innanzitutto rivediamo un attimo come si crafta questa una di queste qua mi serve un cazzo di string santa miseria uno string vedi ho lana verde ragazzi dobbiamo trovare delle pecore oh ma io ce l'ho oh aspetta ritorniamo un attimo a casucciola cioè casucciola si fa per dire ok qua dietro sposta aspetta andiamo qua dentro prendiamoci queste cinque ok ci rifacciamo così e poi ci mettiamo questo qua qua perfetto ok se l'ha fatta ora altra quest e ci prendiamo quest'altro c'è di merda che non mi serve un cazzo poi altra quest sidekick dobbiamo fare un incubator incubator che serve chissà che cosa incubator allora ci servono tre pezzi di stone anzi ci servono si della storia normale in legno e in ambrosium torch ok l'ambrosium torch ce l'abbiamo qua poi mi sa che dobbiamo andare a prendere ce l'ho qua porca miseria che cazzo vado a pia ce l'abbiamo qua e ne approfittiamo lo prendiamo perché ne devo mettere giusto a cuocere allora me ne servono 8 più 3 8 9 10 11 6 11 ragazzi mi dispiace se su fifa 17 non vi sto portando l'audio però capita che il registro di pomeriggio e niente ragazzi senza audio mi concentro di più sul gameplay quindi le possiamo cercare di vincere tutte no 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 leviamo la main miner perché è pericolosissima allora ci facciamo in primis una bella fornaciulla quindi sbemmte frunaciulla fatta qui ci andiamo a mettere 3 di questi anche perché no forse non serve perché non mi serve l'olistone mi servono questi mi prendono un altro po' di legna però ok perfetto facciamo così la torcia in mezzo e questo qua qua incubator che non so ragazzi che cazzo serve boh non so proprio a cosa serve non lo so proprio ciao mucca mi serviva un po' di cibo e un po' di pelle grazie gettoni non so manco a cosa serve ma se voi lo sapete ragazzi ditemelo nei commenti ok altra quest fatta andiamoci a prendere il nostro primo pezzo no black moa egg 8 mid air gems oddio black moa egg ci da un qualcosa che non ho capito però cosa buono buonissimo anche se non so cos'è va bene però che stiamo andando bene prossimo mi serve fin som ecor plants and kill it ecor plants or still monster forse dovrei utilizzare quello adesso e se c'è schiatto facciamo una bella cosa io nel frattempo mi faccio un lettuccio visto che ci stiamo abbiamo un'altra tre pezzi di lana quindi il lettuccio ce lo possiamo fare oddio la vedo un lucky block o mi sto sbagliando questo cos'è berry bush lo prendo questo è un sweet ah sono degli slime oggi ho capito dei magliarini rosa pure i magliarini con le ali tutto con le ali perché ovviamente stiamo in paradiso perché a ether se ricordo male dovrebbe essere paradiso le mele sono blueberry cioè fatte tipo mela ma blu avevo intravisto un qualcosa che mi interessava l'ho perso raga l'ho perso questi che cazzo sono sono i coniglietti raga ho perso ciò che mi interessava mi credete ho perso ciò che mi interessava porca vacca che cazzo ho detto che mi interessava non mi sto ricordando oddio non mi sto ricordando stavamo sopra mi ho detto che mi interessava ah forse dovevo sì 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 dovevo dovevo aprire quell'uovo raga perché quell'uovo sono proprio curioso di vedere che cazzo troppo anche perché lui dice che dobbiamo chillare un qualcosa mi sa che il letto ci dobbiamo fare sì avevo parlato del letto quindi allora andiamo a vedere questo qua abbiamo un altro di lana due di lana porca miseria per uno di lana non ci possiamo fare il lettucciolo questo che cos'è dark sweet chili questo qua è tipo uno slime ball prendiamoci questo non so che cazzo di mostro apparirà adesso ma noi adesso moriremo non me lo fa fare perché non me lo fai fare come cazzo si funziona forse di notte strano forse forse di notte comunque allora andiamo a cercare un'altra sola pecola l'abbiamo vista l'abbiamo vista almeno ci facciamo un lettucciolo muori pecorina dammi la lana non mi ha dato un cazzo no no me la date me la date due perché dici cazzate mi dico me la date due due solamente ma meglio di niente comunque ok diamo un'esplorazione qui nelle vicinanze e vediamo un po' che cosa sta qua oddio le mucche qua ma nono quanto cazzo di mucche e mi danno quei gettoni che però non ho capito bene a che servono qua ci sono pecore colorate tutto colore è pieno pieno pienissimo di colore sto mondo è un qualcosa di assurdo quanto cazzo di colore ci sono in questo mondo vabbè allora qua abbiamo sempre letters grass che non mi interessa momentanamente ragazzi qua faccio la bellezza di 58 60 agor plant ok questi qua danno un bordello di danno effettivamente però ci danno il colore viola abbiamo 0 ok perfetto è finita la pozione dovrei tornare a casa così almeno metto a cuocere tutta sta cazzo di carne che abbiamo trovato e che stiamo trovando tuttora c'è un qualcosa di assurdo guardate come cazzo scatta è micidiale raga è micidialissimo come scatta allora fatemi tornare a casa ok pecore go proprio via come cazzo alberi di arancia forse si si alberi di arancia indovinato proprio dal disegnino l'abbiamo indovinato c'è gente che sta combattendo stanno facendo le mazzate a cazzi loro questo qua voglio capire che cazzo è oddio ma mi da direttamente le string il coniglietto buono qua mi da c'è un altro gettone ce ne abbiamo 30 non so con questi gettoni che cazzo si fa non lo so proprio dovrei tornare a casa ripeto perchè mi devo fare oh tu infinite and beyond mi caccio chi mi metto infinite and beyond oddio che salto wow che figata ste cose di basta andarci sopra e ti fa fare il salto impressionante comunque qui dobbiamo fare attenzione perchè qua siamo praticamente esposti su una cazzo di isola nel cielo praticamente nel nulla dove non c'è nulla 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 però noi dobbiamo fare le quest altre quest che abbiamo detto che dobbiamo fare quindi insomma ecco allora cerca le l'agor plant and kill it ma l'abbiamo killate e infatti era quella che abbiamo killato che mi ha dato invalid meet che cazzo è che cazzo sono queste cose boh cosa fa niente boh forse va una parte qua dentro no non va niente non lo so buono altra quest completata andiamo a vedere un'altra quest abbiamo allora dobbiamo collezionare tutte e sette le i colori delle nuvole mortacci tua di sto coso quanto rompi palle sta nuovola 31 quindi tutti i colori delle nuvole allora vabbè questo credo che può sembrare semplice alla fine ce l'abbiamo tutte in testa più o meno le nuvolette quindi basta fare così basta mangiarci un po' di carne fare tipo così ok e mo andiamo a prendere un pezzo di questa qua poi andiamo a prendere un pezzo di quell'altra credo che dovrebbero bastare mortacci tua oh raga fa malissimo questo stronzo fa malissimo fa malissimo proprio quella cazzo di nuovola perché ci sbalza in alto in altissimo proprio ci sbalza ok va bene dai riprenditi cuoricini del cazzo dai ok qua c'è quello la bianco quindi spero che basta una alla fine ok abbiamo preso due questo qua bianco perfetto stiamo a due aspetta mi devo riparare andiamo a vedere un attimo se la quest sta funzionando si basta uno e uno comunque allora quello giallo si trova giù lì quello verde si trova giù lì e poi mi mancano storm paripule e quick soil quick soil sarà qualcosa di difficile perché si confonde tantissimo con il giallo ok questo bianco l'abbiamo preso ma i ragazzi puntiamo su quello là in fondo verde anzi possiamo puntare pure su questo celeste però se non erro celeste l'abbiamo già preso si mi serve il blu il blu quindi quella celeste ok andiamo andiamo dal verdino queste mucche moriranno perché ci serve del cibo perfetto allora andiamo da questo qua verde cazzo quanta strada devo fare per andarla a prendere dai dai se viene una nuvola e mi butta giù ragazzi siamo morti siamo morti proprio lo dico sinceramente siamo fottutamente morti cazzo sta è la miseria come sta alto cioè guardatela quanto cazzo sta alto raga ma è altissimo cioè ripeto se viene madonna che frizzata mi ha dato aspetta c'è un computer diciamo decente per poter sopportare un pacchetto del genere eppure raga a me mi da delle frizzate ogni tanto abbiamo sbagliato a fare così perché ciò sopra abbiamo rischiato quello là è celeste dobbiamo scendere adesso proprio a bestia oddio lì c'è un viola giù lì c'è un giallo ecco lì siamo morti oddio perché e infatti eravamo morti eravamo morti mi ha laggato di brutto raga la caduta la caduta proprio mi ha laggato tantissimo esplose il pacchetto porca puttana c'è da mettere 6 giga di ram o